...del tutto normale negli ultimi giorni. Che mi dite del suo portatile? Pare che non sia stato toccato. A questo non mi sorprende. Dom è fissato con la sicurezza. Che cosa dicono i testimoni? Nessun testimone, Eddie. Perché ci capita questo? Voglio dire, perché Dom? Per ora non ne abbiamo idea. Allora, FBI e DEA hanno già chiamato per offrire il loro aiuto. Unite le forze. Fate dei controlli incrociati insieme ai loro agenti. Cercate di scoprire se si sono già verificati casi simili. Fate tutto quello che va fatto per ritrovare Dom. Con qualsiasi mezzo e ad ogni costo. Sei già stato a casa sua? No. Neanch'io. Ehi, non è insolito aspettare un certo periodo di tempo prima di andare a casa di un collega. Chiaro? Ecco. Dom, dopo il college, è passato all'MIT, poi al centro di addestramento dell'NCIS. Il ragazzo aveva fretta di crescere. Era così contento di venire da noi che non è neanche passato a casa dei suoi a prendere la sua roba. Ma avevamo appena iniziato a conoscerlo. Nate non è morto. Scusa, non in quel senso. Chi chiama i suoi per dir loro che è scomparso? Forse il direttore, forse Etty. Non ha mai fatto una telefonata del genere. Non è rincasato ieri sera. Ma perché due monitor? Uno per internet e uno per i giochi. Dom era collegato all'impianto di sorveglianza del garage, nell'edificio. Ci sono delle telecamere.